Di come la mamma ti vuole un bene dell'anima per i primi 7-8 anni, ho fatto un rewind della mia vita. Mia mamma mi vedeva uscire dalla camera da letto. Arrivavo in cucina e mi diceva, piccolino, vieni qua, di chi sei tu, topolino mio, profumino mio, per sei anni. Un giorno gli ho detto, mamma, ma sei rincoglionito, sono sempre io, esco dalla camera e ero in cucina. Quanti cazzo siamo in questa casa qua? Poi perde la pazienza la mamma al compimento del settimo anno. Quando tu sei al mare, io ero in acqua da più di 15 minuti, avevo già le righe bianche sulle dita. Mia mamma ha tolto gli occhiali della Panasonic. Mi guardava in mezzo all'acqua, amore, topolino, no, basta, topino, vieni fuori, amore, no, io niente. In quel momento ho sentito, amore, figlio di fuori, bastare me l'ha detto, c'è il tuo padre, che ammazzo! Io ho una scena che non l'avevo mai vista, sono rimasto ghiacciato in acqua così, l'ho guardata, mamma, aspetto 5 minuti e quando va via il demonio esco. Grazie.